benvenuti a tutti quanti a questo talk dal titolo processi evolutivi attraverso algoritmi genetici nel quale spoiler alert vi parlerò appunto di algoritmi genetici di che cosa sono di come funzionano e di che cosa fanno e vi mostrerò anche un vi mostrerò anche un piccolo un piccolissimo esempio applicativo è un talk a livello teorico estremamente basilare quindi non sono richieste diciamo delle conoscenze pregresse però sono quantomeno ecco richieste delle piccole conoscenze di linguaggi di programmazione python dei concetti di funzione di callback e di concetto di oggetto e classe prima di iniziare anche se gregorio la eloquentemente già fatte sono dovute delle presentazioni sono luca di vita sono un ingegnere informatico e rivesto attualmente il ruolo di machine learning engineer presso la sede asis di pescara e qui potete trovare qualcuno dei miei contatti tra i quali linkedin github e gmail quindi io direi di iniziare subito con la presentazione vera e propria e parlando appunto di che cosa sono gli algoritmi genetici e facendo un'introduzione dunque cosa sono gli algoritmi genetici gli algoritmi genetici proprio come gli algoritmi di machine learning e gli algoritmi di deep learning non sono altro che una classe di algoritmi per la ricerca e per l'approssimazione ricerca e approssimazione di cosa di soluzioni ottime soluzioni per problemi di ottimizzazione apprendimento questi algoritmi si dicono genetici perché si basano sulla teoria di evoluzione di darwin ed in particolare si basano sui concetti di variazione ereditarietà e selezione prima di passare nel dettaglio a questi tre concetti appena spiegati bisogna dire che cos'è una popolazione una popolazione e un gruppo di individui e del gruppo di individui della stessa specie avendo il concetto di popolazione si può dire che cosa è la variazione la variazione sono tutti quei tratti e quegli attributi di una popolazione che possono variare nel tempo già con lo scorrere delle generazioni per quanto riguarda l'ereditarietà l'ereditarietà altro non è altro non sono che tutti quei tratti che vengono acquisiti dalla discendenza da parte dei genitori cioè che la discendenza acquisisce dai genitori quando si parla di ereditarietà parliamo in generale di ricombinazione e mutazione per quando riguarda la ricombinazione e quando la discendenza è un diciamo un mix dei tratti genetici dei genitori per quando riguarda la mutazione invece sia una mutazione quando i tratti genetici cambiano in maniera improvvisa e repentina infine per quanto riguarda la selezione per selezione si intende quel processo secondo cui l'individuo con i tratti più forti tende ad adattarsi meglio a un ambiente e quindi e sopra e quindi sopravvivere mentre tutti quanti quegli individui che non riusciranno ad adattarsi all'ambiente moriranno spiegati questi tre oggetti semplici possiamo che sono gli elementi che compongono un algoritmo genetico questi sono il genotipo la popolazione una funzione di fitness una funzione di selezione una funzione di crossover e una funzione di mutazione nelle prossime slide spiegherò singolarmente tutti quanti questi elementi a partire dal genotipo allora che cos'è il genotipo il genotipo o anche cromosoma non è altro che un gruppo di geni raggruppati in particolare o un cromosoma e un mix dei cromosomi dei genitori nel caso degli algoritmi genetici possiamo dire che una popolazione di individui non è altro che una popolazione di cromosomi nel caso semplice del diciamo di questa in questa trattazione prendevo in considerazione il caso più semplice possibile dove un cromosoma è una lista di geni binaria cioè un cromosoma è altro non è che una lista dove ogni elemento della lista è un valore binario quindi o 0 o 1 la popolazione allora la popolazione non sono altro che non è altro che un insieme di cromosomi o di individui per usare lo stesso lessico precedente che hanno la stessa lunghezza ogni cromosoma è negli algoritmi genetici una soluzione candidata per cui una popolazione altro non è che un insieme di candidate soluzione risolvere un problema in un determinato istante di tempo la popolazione rappresenta la generazione corrente e in generale evolve nel tempo quindi con il progredire di un algoritmo genetico la popolazione cambierà dando spazio alla discendenza e facendo perire quegli individui o soluzioni che non sono più utili allora la fitness function è una rappresentazione matematica del problema che noi vogliamo risolvere tramite un algoritmo genetico e serve a valutare i cromosomi cioè serve a dirci quanto è buona una soluzione un cromosoma a risolvere un determinato problema i cromosomi che hanno un valore di fitness più un valore di fitness più alto o più basso a seconda della natura del problema che stiamo risolvendo hanno più probabilità di sopravvivere il processo di evoluzione può terminare in generale basandosi proprio sulla funzione di fitness in quanto una volta raggiunto un valore di una soluzione che è opportunamente che è adeguato diciamo ai nostri ai nostri scopi possiamo terminare l'algoritmo allora una volta che abbiamo i concetti di genotipo cioè di individuo cromosoma e abbiamo il concetto di popolazione che è un insieme di individui e sappiamo cos'è la fitness function che abbiamo detto serve a valutare un singolo individuo possiamo dire che cos'è la selezione la selezione è quel processo probabilistico secondo il secondo il quale noi selezioniamo i quei cromosomi che saranno più adatti a creare la prole la selezione si basa appunto sul fitness di ogni individuo ed è per questo che il fitness è calcolato prima di effettuare l'operazione di selezione ed è un'operazione probabilistica perché? perché in generale non si scarta a priori mai nessun individuo e questo per non perdere materiale genetico diciamo che mantenere materiale genetico anche se apparentemente potrebbe non essere utile potrebbe non essere buone i figli del problema è in realtà molto utile per motivi che saranno chiari più avanti esistono molti tipi di algoritmi di selezione io qui ne ho riportati due che si chiamano roulette russa e tournament selection nella roulette russa ogni genotipo, ogni individuo ha una probabilità di essere selezionato per la procreazione in maniera proporzionale al suo fitness se ad esempio consideriamo il genotipo 1 che ha fitness 1 abbiamo che ha il 7% di probabilità di essere selezionato per il genotipo 2 ha fitness 2, ha il 13% e così via una volta che per ogni genotipo abbiamo una distribuzione di probabilità possiamo costruire appunto una ruota di probabilità e far girare questa ruota selezionando così gli individui adatti a creare la prole il secondo algoritmo è quello della tournament selection nella tournament selection selezioniamo a priori in maniera randomica k cromosomi quindi un numero dato k di cromosomi senza basarci sul fitness quindi in maniera totalmente randomica e una volta selezionati questi k cromosomi ne prendiamo il migliore quindi ad esempio in questa lista di cromosomi noi selezioniamo in maniera random A, E e T e poi di questi selezioniamo A in quanto nella tabella vediamo che è quello con il valore di fitness più alto allora una volta che abbiamo selezionato i cromosomi gli individui che si occuperanno di creare la prole di creare la discendenza dobbiamo effettivamente poter creare questa discendenza e lo facciamo tramite una funzione tramite delle funzioni chiamate funzioni di crossover e servono appunto per il calcolo della prole nel nostro caso semplice di cromosomi binari abbiamo due possibili algoritmi per il calcolo della prole il single point e il two point crossover nel single point crossover semplicemente tracciamo in maniera diciamo immaginaria una linea che tagli i nostri cromosomi e scambiamo le due parti del cromosoma qui ad esempio abbiamo scelto di tagliare il cromosoma a metà entrambi i cromosomi a metà e scambiamo queste due parti e quindi abbiamo creato una discendenza di due cromosomi nel two point crossover il two point crossover invece è molto simile al single point crossover però selezioniamo una porzione tracciando due linee come in questo caso abbiamo selezionato questa porzione del primo cromosoma questa porzione del secondo cromosoma e vengono scambiate come si può vedere la discendenza non è altro che una ricombinazione dei geni dei genitori perché ad esempio in questo caso noi abbiamo che la prima metà è presa dal genitore 1 e la seconda metà è presa dal genitore 2 allora per quanto riguarda la mutazione la mutazione è quella funzione che serve ad aggiornare in maniera periodica e in maniera randomica la popolazione essa è incoraggiata in quanto introduce nuovi geni che permetteranno di ricercare nuove soluzioni e si manifesta con cambiamenti improvvisi dei geni ci sono diversi algoritmi di mutazione io qui ne ho riportati due che sono il flip bit e lo swap mutation il flip bit si seleziona semplicemente in maniera randomica un gene e ne viene fatto appunto il flip cioè viene invertito nella matematica binaria invertire un 1 equivale ad avere 0 e viceversa per quanto riguarda la swap mutation invece selezioniamo in maniera randomica due geni e questi verranno scambiati di posizione gli algoritmi di mutazione sono molto importanti sempre per tornare al discorso della diversità nella popolazione per motivi che spiegherò anche più in avanti allora una volta che abbiamo spiegato tutti quanti gli elementi che compongono un algoritmo genetico possiamo diciamo tracciare un algoritmo un flusso appunto per la risoluzione di un problema di natura genetica abbiamo che si parte con la creazione di una popolazione di individui per ogni individuo viene calcolato il fitness una volta che abbiamo il fitness per ogni individuo si fa un'operazione di selezione quindi selezioniamo tutti quegli individui che sono adatti a creare la prole calcoliamo effettivamente la prole per ogni elemento per ogni individuo della discendenza applichiamo un algoritmo di mutazione e calcoliamo di nuovo il fitness per ogni individuo arrivando così ad una condizione se il fitness è un valore che ci sta bene possiamo completare l'algoritmo prendere l'individuo con il fitness più alto che meglio risolve il problema e abbiamo la nostra soluzione altrimenti torniamo indietro nell'operazione di selezione continuando a ciclare creando quindi una nuova generazione di soluzioni una nuova generazione di individui e così via fino a quando non raggiungiamo un valore adeguato allora in generale anzi in generale io quando ho studiato questi algoritmi la prima cosa che mi è venuta in mente cioè perché funzionano perché apparentemente sembravano stregoneria perché si riesce a convergere ad una soluzione ottima una soluzione che è costruita da dei piccoli blocchetti elementari blocchetti costruiti tramite pressione genetica quindi tramite operazioni di selezione incrocio e mutazione la risposta mi è arrivata da un teorema chiamato teorema di Holland o anche teorema degli schemi che non ho qui riportato per non appesantire matematicamente la trattazione ma che dice sostanzialmente questo che i blocchi più piccoli e semplici che rappresentano i tratti che rendono migliore la soluzione diventeranno nel tempo sempre più presenti quindi saranno sempre più presenti nella popolazione a progredire delle generazioni cioè a progredire dell'algoritmo quindi progredendo l'algoritmo saranno sempre più presenti gli individui migliori allora come ho detto inizialmente ho applicato ho portato da esempio un piccolo problema un piccolo problema che da poter risolvere con degli algoritmi genetici in particolare ho portato il problema dello zaino che è un problema di ottimizzazione combinatoria di tipo NP completo di natura NP completa l'enunciato di questo problema è il seguente si è dato uno zaino che possa sopportare che possa sopportare un determinato peso e siano dati n oggetti a ciascuno dei quali è caratterizzato un peso e un valore come scegliamo quali oggetti mettere nello zaino per ottenere il maggior valore possibile però senza eccedere nel peso sostenibile dallo zaino iniziamo quindi dando dei vincoli al problema diciamo il primo vincolo del problema il primo è unico poi il vincolo del problema è quello che lo zaino non deve superare 400 grammi di peso e lo decidiamo noi a priori la funzione obiettivo come ho detto è quello di massimizzare il valore dello zaino e qui ho riportato il valore ottimo del problema e per questo vi chiedo di dover fare un atto di fede in quanto è un valore strettamente relativo a come è stato formalizzato e come è stato formalizzato e come è stato programmato il problema per cui il valore ottimo il valore ottimo della soluzione è 396 grammi di peso e 1030 di valore rimanendo sempre nel caso di rimanendo sempre nel caso di cromosomi binari possiamo dire quindi che le nostre soluzioni appunto sono dei vettori binari dove l'uno rappresenta che un dato quel particolare elemento un dato elemento è presente nello zaino mentre 0 sta a significare che un dato elemento non è presente nello zaino qui a destra ho formulato il ho riformulato il problema per chi mastica la matematica allora anche se i singoli passaggi sono abbastanza elementari come abbiamo potuto vedere le operazioni di selezione mutazione crossover non sono nulla di particolarmente impegnativo però programmarle insomma richiede diversi passaggi per cui mi sono affidato a un framework chiamato DIP è un framework piuttosto vasto quindi non farò una rappresentazione esaustiva del framework ma mi limiterò a parlare dei due elementi principali che sono toolbox e creator il toolbox permette di creare delle funzioni di callback custom con degli argomenti dati mentre l'oggetto creator permette di creare delle classi figlie custom qui possiamo vedere ad esempio una funzione registrata con con l'oggetto toolbox in quanto toolbox richiama appunto una funzione register che registra una funzione chiamata zero one e il nome di questa funzione è anche detto alias quindi una funzione chiamata zero one il corpo di questa funzione è data dalla funzione random punto randint che è un metodo proprio di python che serve a selezionare in maniera randomica un numero intero compreso in un intervallo intervallo che è dato da zero o d'uno quindi quando verrà richiamata la funzione zero one semplicemente sarà restituito o zero o uno in maniera randomica per quando riguarda invece l'oggetto creator richiama una funzione create che serve questo appunto a creare una classe in questo caso che è una classe chiamata fitness max una classe figlia che eredita da una classe padre chiamata fitness che è propria del framework dip e che ha come attributo una tupla chiamata weight spesi con come elemento uno è importante avere uno come elemento in quanto siamo in un problema di massimo se fossimo stati in un problema di minimo volevamo minimizzare il più possibile la soluzione quindi in quel caso avremmo dato meno uno allora in questa slide ho riportato parte del codice risolutivo non tutto perché era piuttosto lungo ma come ho detto riportato le parti più essenziali ad esempio qui a sinistra vediamo la funzione che è utilizzata appunto come funzione di callback e che serve a calcolare per ogni individuo il valore della funzione di fitness quindi una volta che questa funzione riceve un individuo è in grado di calcolare il valore dello zaino dato quell'individuo ho definito delle costanti che possono essere considerate le veri e propri parametri tra i quali la dimensione della popolazione e diciamo che qui nella nostra popolazione deve essere composta da 60 individui cioè 60 cromosomi e cioè 60 soluzioni possibili definiamo la probabilità che due genitori si incrocino quindi una probabilità di crossover la probabilità che la discendenza muti e il numero massimo di generazioni per il quale vogliamo farci clare il nostro algoritmo perché non abbiamo fornito una condizione sul valore del fitness in quest'altro diciamo pezzo di codice ho definito un oggetto rappresentante il problema ho creato un'istanza di toolbox le funzioni ho creato la funzione zero one e la classe fitness max che ho già esposto nella precedente slide per cui non ripeterò per cui ripasso direttamente a individual creiamo il creator crea una classe appunto individual che eredita dall'oggetto lista di python e che ha come attributo un'istanza della classe fitness max quindi un individuo ha come attributo un fitness vengono registrate due vengono registrate due funzioni la funzione individuo al creator cioè che permette di creare effettivamente un individuo cioè crea un cromosoma un cromosoma che è lungo tanto tanti è lungo tanto quanto sono gli elementi da mettere nello zaino se noi abbiamo dieci elementi abbiamo dieci elementi possibili il cromosoma sarà a lungo dieci la funzione population creator semplicemente crea la popolazione a partire da individual creator infatti come vedete lo prende come argomento e poi registro le funzioni di valutazione per il calcolo del fitness per ogni individuo e come vedete prende come argomento compute fitness che diventa a questo punto la funzione vera e propria di callback registriamo una funzione di selezione per il quale abbiamo scelto la tournament selection con turn size 3 vuol dire che verranno scelti in maniera randomica tre individui e di questi tre sarà preso il migliore registro una funzione di crossover chiamata mate e abbiamo scelto in particolare il two point crossover e registro una funzione di mutazione per il quale è stata scelta il flip bit e prende come argomento questo flag chiamato individual probabilities serve a dire quanta probabilità un singolo diciamo quanta probabilità hanno i geni di ogni individuo di essere selezionati per poter essere mutati quindi abbiamo supponiamo che abbiamo dieci diversi oggetti abbiamo che ogni gene ha una possibilità di un decimo di essere selezionato ogni gene e una volta selezionato quel gene ha la probabilità 0.1 di mutare una volta che abbiamo registrato le funzioni che ci servono per poter avviare l'algoritmo creiamo effettivamente la nostra popolazione e lanciamo l'algoritmo tramite questo comando yay simple yay simple l'altro non fa che eseguire l'algoritmo secondo il flusso che vi ho fatto vedere in precedenza e prende come argomenti la popolazione sul quale eseguire l'algoritmo il toolbox in quanto noi andiamo a richiamare dopo internamente tutte quante queste funzioni le probabilità di crossover la probabilità di mutazione e il numero di generazioni per il quale vogliamo far girare vogliamo far vogliamo far girare l'algoritmo come dicevo il codice non è completo però qui ho messo un link su una repo pubblica per poter accedere al codice commentato se a qualcuno interessa e in questa immagine in fondo ho riportato l'output dell'esecuzione dell'algoritmo come potete vedere questo è il migliore individuo che l'algoritmo genetico ha creato perché è stata una vera e propria creazione e come ho detto è appunto una lista binaria dove l'uno rappresenta la presenza di un determinato oggetto ad esempio uno in prima posizione sta a significare che abbiamo aggiunto una mappa uno in seconda posizione sta a significare che abbiamo aggiunto una bussola e così via gli zero in questa lista non appaiono quindi non ci sono gli elementi che non sono stati messi nello zaino e come si può vedere dal da qui in basso abbiamo che il peso totale dello zaino cioè il peso totale di tutta quella somma dei pesi di tutti quanti degli oggetti aggiunti è di 396 grammi ed il valore è di 1030 quindi facendo affidamento sul vostro atto di fede abbiamo raggiunto la soluzione ottima del problema allora gli algoritmi genetici così come gli algoritmi di deep learning o di machine learning richiedono un tuning degli iperparametri gli iperparametri che sono appunto quelli detti in precedenza quindi le probabilità di mutazione crossover la probabilità di numero di elementi della popolazione eccetera però il loro approccio risolutivo al problema è profondamente diverso rispetto ad esempio al di deep learning questo perché gli algoritmi genetici si dicono population based cioè si itera su una popolazione di soluzioni e non su un'unica soluzione come invece avviene nel deep learning e proprio questo fatto di iterare su una popolazione di soluzioni riduce la probabilità di incorrere nei minimi locali questo perché perché manteniamo diversità da una popolazione ed è proprio per questo motivo che è molto importante che ci sia della mutazione che ci sia della mutazione degli individui ed è molto importante non scartare nessun tipo di materiale genetico appunto per mantenere la diversità e quindi diciamo mantenere questo punto di forza se noi consideriamo considerassimo questa funzione qui chiamata funzione di e golder abbiamo che trovare il minimo globale di questa funzione tramite l'algoritmo genetico non avremmo problemi a trovare il minimo globale mentre utilizzare un algoritmo di deep learning probabilmente sarebbe fallimentare in quando andremo a impelagarci in uno dei tantissimi anzi non tanti in uno dei tantissimi minimi locali altri punti di forza degli algoritmi genetici sono che non è richiesta la derivabilità delle funzioni utilizzate questo perché noi lavoriamo con il solo valore della fitness function non viene eseguita una backpropagazione dove ad esempio è richiesta fare una derivata dell'errore rispetto ai pesi un altro punto di estrema forza è che sono molto molto resistenti al rumore dei dati e sono adatti all'apprendimento continuo quindi possono essere applicati anche in quelle situazioni in cui si ha una variazione dell'ambiente in generale usare l'uno o usare l'altro non è mutuamente esclusivo e possono essere utilizzati anche insieme possono essere utilizzati in sinergia in particolare possiamo utilizzare gli algoritmi genetici per la ricerca degli iperparametri ottimi di una rete neurale per la ricerca della struttura ottima della rete neurale e per la ricerca di un subset ottimo di features un esempio diciamo molto un esempio noto di applicazioni di algoritmi genetici a machine learning o deep learning è data da Tipot Tipot è una libreria che serve a gestire le pipeline nella risoluzione di problemi di machine learning gli algoritmi genetici hanno dato vita a numerose altre branche estremamente estremamente interessanti una delle quali è la programmazione genetica la programmazione genetica il flusso diciamo di un algoritmo di programmazione genetica è molto 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 simile a quello di un algoritmo genetico l'unica cosa che cambiano sono gli individui che in questo caso sono rappresentati da alberi dove i nodi sono degli operatori e le foglie sono variabili o numeri e lo scopo della programmazione genetica non è quello di creare una lista con dei valori bensì è quello di creare dei veri e propri programmi che siano ottimi per la risoluzione di un task un secondo campo estremamente interessante e che ho avuto anche modo di studiare è quello della neuroevoluzione nella neuroevoluzione si applicano gli stessi principi della programmazione degli algoritmi genetici però gli individui sono composti da singoli neuroni e operazioni di ricombinazione mutazione selezione eccetera portano a diciamo a creare dei collegamenti tra questi neuroni associare dei pesi a questi collegamenti cancellare dei collegamenti crearne di nuovi e così via fino a quando non otteniamo una rete neurale ottima per un determinato problema ma non solo ottima ma anche il più piccola possibile nota positiva è che non usa che la neuroevoluzione non usa la backpropagazione per l'assegnazione dei pesi infine abbiamo la particle swarm optimization che è un'alternativa agli algoritmi genetici è sempre un algoritmo genetico ma non segue il flusso che ho dato in precedenza si basa su come gli sciami di individui collaborano tra di loro per la risoluzione di un problema senza che ci sia un'entità centralizzata a dire di cosa devono fare infine abbiamo l'ant colony optimization che invece si basa su come le formiche ricercano il cibo così come le formiche ogni individuo si occupa di ricercare la soluzione un attimo al problema e quando una soluzione viene fiutata tutti quanti gli altri individui seguono quello che ha trovato questa soluzione allora questi due sono i libri di testo che ho utilizzato per la stesura di queste slide il talk a questo punto è finito e grazie a tutti per l'attenzione Luca grazie a te per il talk interessantissimo allora abbiamo delle domande quindi ti chiederei di interro... ok l'hai già fatto ti condivido il mio schermo e andiamo a leggere le domande ok allora ti fisso la prima e te la leggo Dionisio ci chiede ciao Luca complimenti per la sessione è possibile utilizzare o hai mai utilizzato gli algoritmi genetici anche per la feature selection in contesto machine learning eh sì come dicevo prima può essere usato in sinergia al machine learning a deep learning e appunto per e questo è uno degli aspetti si può utilizzare per la feature selection e in questo caso potrebbe essere sempre considerato un un problema genetico dove i cromosomi sono delle liste binarie dove uno rappresenta che una determinata feature è presente e zero invece che non è presente e al progredire dell'algoritmo diciamo che la il cromosoma che ci ha permesso di ottenere l'errore più basso possibile e corrisponde alla soluzione migliore cioè al subset migliore di feature ok passiamo alla prossima sempre Dinizio chiede si possono usare gli algoritmi genetici per il tuning e o il fine tuning di modelli machine learning e deep learning sì anche anche in questo caso si potrebbe si possono utilizzare gli algoritmi genetici qua questo anzi si potrebbe risolvere sia con sia diciamo con un modello binario e sia con un modello continuo dove cioè per continuo si intende che non assume solo valori 0 1 ma può assumere altri tipi di valori come 10 20 30 e quindi possiamo diciamo creare degli algoritmi genetici che in maniera diciamo evolvendo cercano ad esempio l'architettura migliore di rete cambiando i suoi valori interni magari diamo una lunghezza prestabilita noi sappiamo che vogliamo per dire un esempio il primo che mi viene in mente una rete che si approfonda 10 layer allora creiamo dei cromosomi lunghi 10 dove gli elementi interni sono il numero di neuroni per layer ok e questo si può fare anche per gli iperparametri benissimo passiamo alla prossima in che modo sarebbe cambiato il risultato del problema dello zaino al cambiare dei parametri su python e che correlazione c'è tra quei parametri e la risoluzione allora dunque se ho capito la domanda per parametri forse intende gli iperparametri quindi il numero massimo di generazioni e così via allora questa risposta si può in parte trovare nella dimostrazione del teorema di Holland se ad esempio noi aumentiamo di moltissimo la probabilità della mutazione si potrebbe anche a non arrivare a una convergenza per dire altre cose mi vengono in mente e che bisogna gestire e che se ad esempio il valore del fitness per un dato individuo potrebbe risultare troppo alto allora quell'individuo sarà sempre selezionato andando così incontro a quella che si chiama convergenza prematura cioè i figli non smetteranno mai di cambiare andremo alla convergenza prematura dell'algoritmo e quindi l'algoritmo potrebbe essere arrivato ad un minimo locale cosa estremamente improbabile però potrebbe arrivare ad un minimo locale ed è per questo che è importante mantenere la diversità ed è per questo che appunto è per questo è importante mantenere la diversità nella popolazione e per questo che tutti qua tutte quante le scelte sono tutte quante probabilistiche perché non è detto che l'individuo migliore in quel momento è quello che ci sta dando la soluzione ottima al problema se noi ad esempio altro esempio se noi ciclassimo per poche generazioni magari avrei messo dieci generazioni non avrebbe raggiunto la soluzione ottima ma si sarebbe fermato prima di arrivare al massimo globale come in questo caso è un problema di massimo prima di arrivare al massimo globale si sarebbe fermato dandoci un valore sì alto però non quello massimo perché si stava dirigendo verso la salita ok andiamo avanti prossima domanda ho letto per la prima volta degli algoritmi genetici tantissimi anni fa su un articolo delle science qual è il reale utilizzo oggi? dunque oggi l'utilizzo degli algoritmi genetici è estremamente di devo dire che è estremamente di nicchia qualche framework lo usa applicato a deep learning a machine learning come ho detto in precedenza però sono per lo più e per lo più utilizzato in ambito di ricerca questo comunque perché poi i machine learning e deep learning hanno preso il sovra hanno preso diciamo il sopravvento diciamo sono delle cose che sono esplose sono andate di moda in quel momento sono state accettate dalla comunità scientifica e quindi siamo spinti su quel ramo però gli algoritmi genetici devo dire sono dei degnissimi avversari di machine learning e deep learning ovviamente anche utilizzare gli algoritmi genetici presenta le sue difficoltà perché non sempre è facile arrivare a formulare un problema in forma di massimo o di minimo chiaro ti leggo la prossima come si paragona il costo di computation degli algoritmi genetici? si paragona rispetto a cosa? allora se rispetto agli algoritmi di deep learning beh io direi che ovviamente dipende sempre dagli iperparametri diciamo che il costo computazionale di un algoritmo genetico si aggira intorno all'n cubo perché abbiamo n individui individui lunghi n elementi e cicliamo per n generazioni quindi diciamo intorno ad un n cubo che poi sarebbe anche il caso medio della risoluzione di un problema del simplesso che è anche in grado di trovare soluzioni in ottima problema quindi utilizzare gli algoritmi genetici è anche un degno avversario di risolvere un problema tramite algoritmo del simplesso ok Nizar ci chiede consiglieresti gli algoritmi genetici per la ricerca di ottimi problemi di scheduling di produzione sì perché allora si potrebbero benissimo applicare perché seppure in produzione magari si possono avere delle variazioni come ho detto in precedenza gli algoritmi genetici si adattano molto bene alle variazioni certo non devono essere repentine altrimenti è come se riniziassero da capo però se si hanno delle piccole variazioni costanti nel tempo gli algoritmi genetici si escono molto bene ad adattare e a trovare di volta in volta la soluzione ottima ok ti leggo la prossima risolutori di problemi di massimizzazione e minimizzazione ad esempio il cplex implementano internamente algoritmi genetici? se il cplex intendi simplesso no il simplesso si basa si basa sul metodo tablò quindi no è una cosa completamente diversa si basa su matrici è un metodo anche computazionalmente anche molto impegnativo però sempre dell'ordine di n cubo si parla ok prossima in quali contesti sconsiglieresti l'uso di algoritmi genetici? beh come ho detto prima sono degnissimi avversari quindi si possono utilizzare sempre così come machine learning e deep learning però se non si è in grado di formulare il problema in forma di massimo di minimo io direi di non perderci tempo altrimenti si passerebbero mesi a cercare di formalizzare un problema per il resto se possibile io gli sceglierei perché sono computazionalmente migliori degli algoritmi di deep learning e ci stanno anche meno rischi sono anche più robusti ok bene allora le domande sono terminate Luca io ti ringrazio grazie a te Gregorio e a questo punto mancano giusto 5 minuti al keynote di chiusura quindi ci vediamo tra 5 minuti sul my stage e Luca io ti saluto e alla prossima quindi tutti tra 5 minuti in my stage per la chiusura di questo evento ciao a tutti